Federico Cerone, dopo il problema al polpaccio hai finalmente recuperato, come ti senti? Sicuramente meglio, siamo stati a riposo ormai da quasi 20 giorni, considerando anche la partita di Motelica e con le terapie del caso siamo arrivati a buon punto e penso di entrare oggi con la squadra. Il prossimo impegno è la partita con la Iesina, come vedi la gara? Sicuramente sarà una partita difficile, al giorno di ritrovo sappiamo che è un altro tipo di campionato e chi deve fare punti per salvarsi giocherà col cortello fra i denti, ma sicuramente anche noi ci faremo trovare pronti. Attualmente ci troviamo in zona playoff, possiamo puntare a qualcosa di più? No, io penso che la nostra dimensione sia quella dei playoff e effettivamente il campo sta dicendo che sia la Vispesaro che il Manelica stesso hanno qualcosa in più e è giusto riconoscerlo. Noi sicuramente proveremo a fare di tutto per arrivare nelle zone più alte della classifica, però tutto questo deve e potrà arrivare tramite il lavoro. Cosa ti auguri dal girone di ritorno? Il girone di ritorno sicuramente mi auguro di ripetere le 12 partite che abbiamo fatto positive nel giorno di andata e girare in maniera diversa le prime 5 dove non abbiamo dimostrato il nostro reale valore.